Ben tornati a tutti. Oggi è domenica, 22 settembre 2024. Di seguito le previsioni dell'oroscopo di oggi. Oroscopo vergine. Un pool di stellone amiche. Un pool di stellone amiche quest'oggi, tutte tranne Saturno e Nettuno che lo segue come un'ombra, ma cosa volete che siano loro due contro la Luna, Plutone, Marte e infine il Sole e Mercurio abbracciati nel vostro segno? Se anche una lieve perturbazione c'è, come un'ombra che vi passa nel campo visivo, arriva e va via veloce, senza rovinarvi la vista d'insieme. Merito vostro che anche il tempo libero sapete programmarlo e suddividerlo con intelligenza, qualcosa per l'attività fisica che vi mantiene in forma, qualcosa per la mente per essere sempre informati, qualcosa per il viaggio, perché viaggiando si evolve e ci si trasforma, qualcosa per i vostri cari perché non vi tengano il muso e siano felici di condividere con voi questo ultimo scampolo d'estate, magari all'aperto. Possibile nascita di coppie, di amicizie nuove e di teneri incontri. Si possono concretizzare progetti importanti o di farne nascere di interessanti fattori di successo per l'amore che è il grande favorito. L'amicizia può riservare grandi soddisfazioni, a cercare gli amici veri e sinceri non si spreca mai il tempo. Soddisfazioni anche da colleghi o parenti. Affetto e armonia in famiglia. Amore e passione alle stelle. Almeno sulla carta un regalo. Successi grazie alla fiducia che proverai in te stesso. Situazioni da tempo frenate, si sbloccheranno come per incanto. State facendo dei piccoli errori che con il tempo potrebbero danneggiarvi, cercate di porre rimedio e di intraprendere un percorso diverso. Giorno ideale per chiedere consigli alle persone giuste. Ascolta gli altri con più attenzione. Nati il giovedì e il domenica proveranno le emozioni dell'amore. Segreti, cose nascoste, amori non ancora ufficializzati. Conta pure sulla dea bendata e sugli amici. Serata piacevolissima. Un risarcimento si sta facendo attendere più del dovuto. Fate attenzione alla guida, rispettate oggi semafori e segnaletica, multe in agguato. Il vostro partner oggi si dimostrerà particolarmente geloso e potrebbe farvi qualche piccola scenata, non sottovalutate tuttavia questo sentimento che lo pervade. Con il tempo potrebbe assumere contorni sempre più netti. Plutone, Marte, Urano, Sole, Mercurio oggi stimolano il vostro lato più grintoso e battagliero, rendendovi veri condottieri, specie nell'ambito dove si svolge la vostra abituale attività e se festeggiate il vostro compleanno nella prima e nella seconda decade Virginia. Fate attenzione a come vi muovete in ambito sociale, però, il duo Saturno, Giove, ancora per voi contrario, può rendervi distratti e poco dotati di capacità di ascolto. Il Sole è arrivato all'ultimo giorno nel segno, se dovete dare una festa di compleanno fatelo stasera o altrimenti vi toccherà aspettare l'anno prossimo. A rendervi protagonisti l'astro del giorno abbracciato a Mercurio, domani se ne andrà in bilancia e lo stesso farà il piccolo Dio messaggero il prossimo giovedì. E allora godeteveli i vostri inquilini e salutateli come si deve. Sicuramente Saturno e Nettuno all'opposizione vi giudicheranno pazzi, bocciando la vostra iniziativa e lo stesso potrebbero fare gli altri, in primo luogo il partner, su una lunghezza d'onda diversa. In compenso avrete l'appoggio della Luna e del suo amico controcorrente Urano, entrambi in toro, segno di Terra grande amico del vostro, ma anche di Marte cancerino che vi darà la spinta e il coraggio di fare tutto ciò che oggi vi passa per la mente. Amore ed Eros. Se non vi sentite amati perché il partner vi appare distante o distratto o semplicemente perché ancora nella vostra vita non c'è, vogliatevi bene da voi stessi. È più che un diritto, ma un dovere che ciascuno ha nei confronti del proprio corpo e della propria anima. Qualche bisticcio tra amici, caratteri diversi spesso non si capiscono e pigliano fuoco. Più facile gestire i rapporti a distanza, online si dialoga amabilmente ma non ci si becca mai. Firmamento celeste in amore che si può dire abbastanza ottimale, visto che molti pianeti lenti e rapidi, tra cui la seducente e sospirosa Luna nel segno amico del toro, vi sostengono. Condividete interessi musicali, artistici, canori con il vostro, o la vostra, partner e questo vi riconcilia con il mondo, specie se siete nati nel mese di agosto. Stripitosi successi erotici si configurano per i single della terza decade. Lavoro e denaro? Niente lavoro oggi, anche se il socio o chi per esso vi chiede di esserci perché ce n'è bisogno rifiutate gentilmente, oggi siete infesteggiati e non alzerete un dito. Vero che la Vergine è il segno del lavoro per antonomasia, ma avete sgobbato abbastanza e oggi avete bisogno di prendervi il vostro tempo e quel respiro di libertà che vi mancava da tanto. Fatelo con un piccolo viaggio o un'escursione in un borgo delizioso, oppure andando a vedere un museo, un evento, una mostra particolare, sarà un input culturale anche per i vostri ragazzi, sapere è bellissimo e apre una finestra su mondi sempre nuovi. Dovrete saper aspettare, con pazienza e seretà, che vengano riconosciuti i vostri meriti. Se siete nati dal 14 al 19 di settembre, non date peso a futili chiacchiere di colleghi che avete già appurato non essere vostri veri amici. Intanto, incassate e, come di consueto, siate certi di aver dato il massimo in ufficio. Benessere. Un filo di mal di schiena, di spalle, di ginocchia, ma non è colpa dell'età, solo di quell'umidità nell'aria che fa già autunno. In gita con amici molto più giovani di voi stentate un po' a tenerli dietro, ma una volta preso il ritmo sarete voi a dare loro punti, con una resistenza da scirpa. Colori da indossare quelli del vostro segno, giallo limone e azzurro, aguzzano l'ingegno e rendono più piacevole il movimento e il viaggio. Denaro. La luna benefica nel segno amico del toro combinata a mercurio nel vostro segno, stimola il gusto per la scommessa e l'avventura. Se volete tentare la fortuna al gioco, tipo lotto o gratta e vinci, datevi da fare, in special modo sennati nella terza decade. Per lei, domenica ideale per dare una festa, magari per il vostro compleanno. Cibo e vino biologico, musica folk e una dolce allegria, una serata che ricorderete negli anni a venire con tanto piacere. Per lui, vi siete dati tanta pena per dare una mano a qualcuno e ora costui o costè nemmeno vi saluta, come se tutto gli fosse dovuto. Peccato nella giornata mondiale della gratitudine comportarsi così suona quasi come un affronto. Colore delle emozioni, verde menta. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 10, finanze, 10, benessere, 8. Grazie per aver guardato il video. Buona giornata. Grazie per aver guardato il video.